CUCCHI STEFANO Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'addebito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Scusi di farmaci! Sei scemo! Ho un fratello scemo! Avevi detto che stasera dormirei qui? Stasera non posso, vado a fa' un giro con un amico. Che stiamo a fa' qua? E' qua che c'è di bello? Siamo carabinieri, dobbiamo fare una prequisizione. L'hanno arrestato in piena nuca e uno Stefano ritornato. Devi dirci la verità e basta. E' da 15 anni che la verità è sta roba qua. Cosa è successo? E' meglio che dormimo da voi. Dobbiamo entrare. Almeno sapere come sta, non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente. Possiamo parlare con i medici? Cosa è successo? Sono male, c'ho freddo. Fammi vedere questi occhi. Lasciate questa, eh! Scrivi che il paziente rifiuta la visita. Il dolore è traditore. Viene fuori piano piano. Guardia! Guardia! D'obra, ciò no? Grazie a tutti.